La terza, ultima, in ordine, diciamo, è temporale, grande piattaforma televisiva che abbiamo oggi in Italia, che è Sky e che certamente Fox Channel rappresenta con il suo canale in maniera esemplare. Alessandro Limiti è il direttore commerciale. Buonasera a tutti intanto. Come prima cosa devo dire che trovo geniali alcuni messaggi di Twitter, il più bello che ho letto è stato quello che sono già arrivato ora, ma vedo già facce spente, quindi spero che voi possiate accendere nei prossimi minuti. Oggi, da quando sono arrivato questa mattina, ho sentito intanto moltissime parole in inglese che non capisco, mi sono ritrovato in una sorta di nannimorettismo quando dicevano trend negativo, io non parlo così. E quindi questa sorta di trend negativo, io non parlo così, credo che si sia fatto poco focus sul motivo per cui esistono questi eventi. Questi eventi esistono perché dobbiamo parlare un po' di innovazione. Parlando di innovazione però dobbiamo capire che innovare non vuol dire sempre per forza cambiare le cose. Credo che ci sia una cosa molto semplice che ci permette di dire che c'è una crisi nel mondo pubblicitario, come diceva Yves in questo momento, è un periodo abbastanza difficile. Il problema sta in gran parte nella creatività. Nessuno parla di creatività, tutti parlano del fatto che ci sono i social media, che ci sono altre piattaforme, la multimedialità, però poi alla fine vediamo degli spot televisivi che si ripetono, che poi possono essere mandati su internet, su mobile, sulle application, con creatività del 1980, ripetute, uguali, identiche. C'è una ricerca di Milwar Brown, vi dirò due o tre dati importanti, se vi capita segnateveli perché ve li potete giocare in riunione con qualche cliente. Questa ricerca di Milwar Brown, se andate su Google e digitate Milwar Brown creatività vi esce fuori, ci dice che il 54% degli spot che vengono visti in televisione, su una ricerca fatta su 1200 spot, il 54% non viene legato al brand che promuove. Solo il 15% raggiunge gli obiettivi di comunicazione, solo il 20% dà delle notizie rilevanti per il pubblico, il 33% addirittura poi comunica cose che sono totalmente diverse a quello che si vuole comunicare. Per cui nell'era della multimedialità, io credo che il concetto che lega il brand e l'entertainment, come diceva Silvia Pocanzi, sia davvero uno dei modi per riuscire ad emergere all'interno di questo panorama comunicativo così affollato. La televisione è in salute, dice Yves, la televisione è in salute e fa più 4% di telespettatori, quindi di numero assoluto di telespettatori. Però c'è un però, siccome siamo al forum digitale della comunicazione e vogliamo innovare, cerchiamo di capire dove saranno le generazioni che tra 10 anni avranno 45 anni. Ebbene, quello che è successo dal 2000 al 2010 è che i giovani 15-34 nella televisione fanno meno 38%. Questo è quello che sta succedendo. La televisione invecchia, ecco perché cresce, perché invecchia insieme all'Italia. I giovani se ne vanno, i giovani vanno su Twitter e scrivono a noi che parliamo di queste cose, i giovani vanno su Facebook e si relazionano. Quindi quello che sta succedendo è che per emergere all'interno di questo mercato così frammentato, probabilmente unire l'entertainment con il branding è uno dei modi che noi per esempio in Fox stiamo utilizzando con grande successo sia di risultati come numero di iniziative, sia di fatturato prodotto, ma anche e soprattutto di soddisfazione dei clienti e di efficacia nei confronti dei consumatori. Se io vi chiedo per esempio chi è il testimonial di Crodino, voi lo sapete immagino, chi è? È il gorilla. È il gorilla. Ora io ho sempre pensato che il gorilla di Crodino fosse un eccezionale personaggio per fare delle sitcom. E quindi quando parlando con Campari ci è stato proposto di mandare delle sitcom del gorilla su Fox, noi abbiamo detto assolutamente sì, è il posto giusto. E quindi tra qualche tempo ci sarà appunto il gorilla di Crodino su Fox che sarà protagonista di una sitcom molto breve di 60-90 secondi. Adesso non per piageria nei confronti dell'azienda che rappresento, quindi posso portare un esempio di Sky. Non so se vi ricordate chi era il testimonial di Ringo, dei Ringo dei biscotti, probabilmente Yves essendo del Milan se lo ricorda perché era Cacà. Ebbene su Sky hanno fatto un programma che si intitolava A scuola calcio con Cacà, di quattro puntate, di mezz'ora, che è andato molto bene anche dal punto di vista degli ascolti, che ha unito semplicemente il brand di Ringo con l'entertainment legato ad un personaggio televisivo che era sia testimonial di Sky Sport, sia testimonial del prodotto. Quindi in questo senso il brand entertainment, così come viene chiamato in gergo, riesce sostanzialmente a coinvolgere i consumatori in maniera cross-mediale, portandoli sulla televisione, poi portandoli sul web e portandoli appunto sui social media nel momento in cui si viene a creare appunto del brand entertainment a livello social. Evidentemente se ci fossero contenuti interessanti, i giovani non se ne andrebbero dalla televisione, questo è quello che ho letto adesso su questo Twitter, è altrettanto vero che i device tecnologici aumentano, quindi i giovani contenuti interessanti se li vanno a cercare sui device tecnologici. Quindi non credo che tanto sia un problema di contenuti, quanto effettivamente di frammentazione. Per concludere alcuni dati sul brand entertainment, tanto perché non voglio parlare solo di fuffa, il brand entertainment è stato analizzato da una ricerca di TNS, che è un istituto di ricerca abbastanza noto, che era anche qui al forum digitale, ebbene è stato notato che i progetti in cui il brand viene unito appunto all'entertainment, sviluppano un incremento di ricordo spontaneo, un incremento di interesse, un incremento di motivazione all'acquisto del prodotto. Per un semplice motivo, la pubblicità che funziona deve farsi notare e comunicare i messaggi strategici del prodotto. Questo lo si può fare anche con il brand entertainment, e il motivo per cui ci riesce è che il brand entertainment è qualcosa di estragnante rispetto al break pubblicitario. La gente guarda questo tipo di informazioni pubblicitarie in maniera curiosa, e quindi nel momento in cui si riesce ad incuriosire il pubblico, si ottengono valori che sono di gran lunga superiori alle norme, quindi ai valori normali di ricordo e di interesse suscitati dallo spot tabellare, proprio perché escono fuori dal contesto pubblicitario normale. Grazie Alessandro.